C'è il portello, pure sul muro, pure sul sport, tutto muro, fantastico, grazie. Dopodiché ragazzi c'è un... Come se potesse... Beh, ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Io sono Ernesto J ed oggi siamo in un nuovo nuovo... Cazzo è... Oggi siamo in un nuovo vlog... Aspettando! Ragazzi, mi sono messo qua perchè qua c'è la luce... Ok ragazzi... Passiamo... Alla domanda... Però se il video vi piace ancora questa roba addosso, sono un po' più... E le ho pure memorizzate... Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, non lasciate un commento mi piace... Anche a facciare i Facebook e come nel video, trovate le iscrivetevi... Se non siete voluti, siete iscriviti e vi iscrivetevi... Ciao ragazzi! Ma che cazzo? Ma che cazzo? Allora... Ok ragazzi... Ragazzi... Passiamo alle domande... Prima domanda... Giuse... Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ok... Ma che cazzo? Ok ragazzi... Questo video è pure di sera... È pure di... La fottuta sera... Quando ci stanno... Le... Tenebre... Non lo so... Mi scopone in su... Ma che cazzo? E' una pettinatura è una pettina... Ok ragazzi... Ve l'ho messa... Che cazzo... Aspettate... Se mi metto un po' molto... Se mi metto un po' più, vedete... Un po' di... Cazzo... Questa pettinatura del cazzo... Però... Non so... Mie schipare di in su... è perché prima cosa me li metto sempre i capelli in su sia quando che dovevo uscire sia quando che dovevo che dovevo andare a dormire sia quando dovevo andare a scuola tutte le volte me li metto i capelli in su perché mi fanno un po' compazzino aspettate adesso ve li faccio vedere lui è Steve saluta Steve vabbè oh che cazzo vuoi ok ragazzi non la leggo ok possiamo passare se mi domandate se volete un sacco di buttare a me non ve la do mia mia è lì mi sei Jack è uno stronzo idiota che adesso ammazza se non mi faccio bene no è infatti è così è infatti è così è infatti è così allora ragazzi io ho fatto dire che dovevo aspettate questo è il mio computer è infatti è infatti aspettate che cazzo basta ma credo proprio di sì eh no è stato proprio di sì e l'ha già spiegato ti basta ma credo proprio di sì ma credo proprio di sì è molto bello ma non riesco ad impiccare lui è questo come l'ha vicino cioè da usare uno contro il gioco così questo da impiccarlo dentro qua dentro c'è ancora vicino qua come si sa io sono cattivo gna ha ha gna ha ha gna ha ha ok ragazzi ok ragazzi senti senti bello a tutti i miei altri ma vedo di questo nuovo video io non sono è nel soggetto è nel soggetto non faccio più gagnare questo youtube eliminate mi piace e mettete non mi piace ok ragazzi eliminati da iscritti che destino non fai più video youtube non è bello è bello è bello ragazzi date iscritti mettete i miei più ok ragazzi il video è se il video vi è piaciuto commentate qua sotto scrivete ciao ragazzi ciao ragazzi